Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla statale Trevis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Val Savignone e Canili in direzione Ravenna, chiuso lo svincolo di Canili. Sulla statale 12 della Bedone e del Brennero, senso unico alternato tra bagni di Lucca e fabbriche. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!